Egli era del resto un santerello, faceva divotamente di berretto alle immagini sacre, mi raccontava con molta compunzione le buone opere del parroco tale e del parroco talaltro, i miracoli operati dal patrono del suo paese nativo, una terricciola in Val d'Adige. Udite se la sua pietà era sincera e profonda. A Calavino entro da un tabaccaio a comprarmi delle sigarette. E intanto lui resta fuori a discorrere con un prete. Quando mi volto per uscire, odo Patata che dice «E come sta l'opo, sio Teccano, sto zio?» «Eh, caro», risponde il prete, «è più di un anno che è andato in paradiso». Patata si reca una mano al berretto, l'altra sul cuore, fa un inchino e dice gravemente «Ben fatto!» Ma io porto Patatina nella memoria per un altro episodio di quel viaggio.